ciao ragazzi e bentornati su metfor hardware oggi parliamo di dissipatori a liquido e di come sceglierli in funzione delle nostre esigenze non parleremo di colorazione rgb o di software di gestione o di altre funzioni specifiche perché ci concentreremo sui due aspetti più importanti da valutare prima dell'acquisto ossia il radiatore e le ventole prima di iniziare vi ricordo che questo video fa parte della rubrica parliamo di pc in 5 minuti se non l'avete già fatto vi invito a vedere anche gli altri video presenti nella playlist in quanto abbiamo parlato di come si scegliono le ventole di come scegliere il case degli errori da evitare quando si assembla un pc eccetera vi potrebbero essere utili via con il tempo cominciamo a parlare di radiatori e dimensioni sul mercato si trovano principalmente dissipatori all in one di quattro misure da 120 mm da 140 da 240 mm da 280 ed infine da 360 mm per capire quale sia la misura giusta per le nostre esigenze dobbiamo considerare i due fattori la nostra cpu ed il nostro case iniziamo con la cpu in generale i dissi da 120 o 140 mm vanno benissimo se utilizzati con processori lasciati a velocità stock quindi se non siete interessati all'overclock oppure utilizzate una cpu non overclockabile questa misura è quella ideale dai 240 mm in su possiamo utilizzarli invece anche avendo in mente di fare un po' di overclock del processore prima di andare avanti e parlare dei controlli da fare per verificare la compatibilità del dissipatore con il processore voglio fare con voi alcune considerazioni la prima in merito ai dissipatori da 120 mm questo genere di dissipatori hanno in molti casi prestazioni simili se non inferiori ai dissi ad aria di fascia medio alta quindi rispondo subito ad una domanda che sono sicuro farete in molti conviene comprare un dissi al liquido da 120 o un dissi ad aria di fascia medio alta ragazzi dipende dal vostro case i dissi al liquido da 120 generalmente hanno il vantaggio di non essere ingombranti e possono essere utilizzati anche in case molto piccoli magari installandoli nella parte posteriore i dissi ad aria di fascia medio alta invece necessitano di un case grande in molti casi si fa fatica a montarli anche nei case mid tower soprattutto se scegliamo modelli prestazionali con ventola da 140 quindi se avete un case piccolo vi consiglio di prendere un dissi al liquido da 120 è importante però dirvi anche che il principale svantaggio dei dissipatori al liquido piccoli è il rumore proprio perché il radiatore piccolo solitamente si ha la necessità di tenere le ventole ad un numero di giri elevato e questo va a discapito della silenziosità della build voglio anche fare chiarezza su un aspetto che molti considerano in maniera errata la dimensione del radiatore non determina un aumento lineare delle prestazioni di dissipazione detto in parole semplici un radiatore da 240 mm non ha il doppio delle prestazioni rispetto ad uno da 120 così come uno da 280 mm non garantisce il doppio delle prestazioni rispetto ad uno da 140 questo avviene perché all'aumentare delle dimensioni del radiatore l'apporto in termini di capacità di dissipazione supplitiva tende a diminuire vediamo insieme quali sono i principali vantaggi di utilizzare un radiatore di grandi dimensioni il primo vantaggio è sicuramente la silenziosità proprio perché il radiatore più grande avremo buone prestazioni di raffreddamento anche tenendo bassa la velocità delle ventole inoltre la temperatura tende a salire più lentamente e tende ad abbassarsi più velocemente quando aumentiamo il numero di giri delle ventole rispondo anche ad un'altra domanda che sono sicuro mi fareste in tanti a parità di dimensioni del radiatore cosa determina le prestazioni migliori di un dissipatore rispetto ad un altro a parità di dimensioni le prestazioni sono influenzate dalla velocità e dalla tipologia di ventole dalla pompa e dallo spessore del radiatore non entro nel merito delle ventole perché ne abbiamo già parlato in maniera approfondita nel video dedicato a come sceglierle se non l'avete visto vi invito a farlo lo trovate in alto a destra ed in descrizione per quanto riguarda la pompa considerate che la maggior parte dei dissipatori all in one sul mercato utilizza lo stesso tipo di pompa quindi con prestazioni praticamente identiche lo stesso vale anche per lo spessore del radiatore quasi tutti i modelli infatti hanno uno spessore che va dai 28 ai 30 mm ragazzi da tanti mesi ormai sapete quale sia il dissipatore a liquido che considero il più prestazionale ossia l'artic liquid freezer 2 se vi state chiedendo perché lo sia la risposta è semplice ha delle ventole di tipo high static pressure davvero ottime e superiori in termini di prestazioni rispetto a quelle montate sulla maggior parte dei dissi all in one sul mercato ha una pompa molto potente ed un radiatore spesso 38 mm contro i circa 30 mm della maggior parte dei dissi aio sul mercato andiamo avanti e parliamo dei controlli che dobbiamo fare prima dell'acquisto la prima cosa importante è verificare la compatibilità del dissipatore con il socket della nostra cpu per farlo basta andare sul sito del produttore del processore e del produttore del dissipatore e fare un check facciamolo insieme prendendo come esempio il ryzen 5 3600 ed il dissipatore deep cool gamma x l 120 rgb v2 come potete vedere il socket del ryzen 5 3600 e l'amd am4 andiamo quindi a vedere insieme se quest'ultimo è supportato dal dissipatore come potete vedere dalla scheda tecnica del dissipatore questo socket è supportato prima dell'acquisto dobbiamo fare anche altri controlli e questa volta riguardano il case dobbiamo verificare se il nostro cabinet è compatibile con i radiatori dei dissi al liquido e quali misure sono installabili per farlo dobbiamo andare a vedere la scheda tecnica presente sul sito del produttore del case facciamolo insieme prendendo come esempio il 220 t di corsair come potete vedere in questo case possiamo installare un radiatore da 240 mm nella parte superiore uno da 120 in quella posteriore ed uno da 360 o da 280 nella parte anteriore tenendo conto della compatibilità di questo case qual è la misura di radiatore che conviene prendere allora il consiglio che vi do è quello di comprare il dissipatore con radiatore più grande compatibile con il vostro case nella parte posteriore o superiore come già detto in altri video sconsiglio di montare i radiatori nella parte anteriore del case a meno che non sia l'unico posto del vostro case in cui possono essere montati per ulteriori approfondimenti vi invito a vedere il video sulle ventole pubblicato sul canale in cui abbiamo parlato di airflow quindi nel caso del 220 t il mio consiglio è quello di montare un radiatore da 240 mm nella parte superiore ragazzi dovete fare attenzione anche ad un altro aspetto ossia allo spazio presente tra la motherboard e la griglia superiore dove si monta il radiatore questa misura è fondamentale soprattutto se montate una scheda madre magari con i sync di dimensioni generose che potrebbero andare ad interferire con le ventole dovete infatti considerare non solo lo spessore del radiatore ma anche quello della ventola che si va a sommare nel caso del dissipatore installato in questo mio pc ci sono i 30 mm del radiatore più i 25 mm della ventola quindi questo dissipatore ha bisogno di almeno 55 mm di spazio tra la griglia superiore e la motherboard e come potete vedere in questo caso lo spazio è molto maggiore essendo questo un cabinet full tower ragazzi abbiamo sforato i 5 minuti già da parecchio quindi mi fermo qui in descrizione inserisco i dissipatori al liquido che preferisco e ritengo migliori fatemi sapere se vi interesserebbe vedere altri video dedicati a questo tema potremo parlare ad esempio di come montarli del tdp e delle varie configurazioni utilizzabili come quelle push 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 and pull eccetera vi ricordo che sul canale trovate altri due tipi di contenuti configuro pc build tenendo conto delle richieste che mi fate nella sezione community del canale quindi se volete che vi dà una mano nel configurare il vostro pc scrivetemi lì se invece siete interessati a dei componenti specifici buttate un occhio anche alla playlist top five in cui seleziono i migliori cinque componenti per fascia di prezzo se questo video vi è piaciuto spolliciate per me è l'unico modo di capire se questo genere di contenuti sono di vostro gradimento se non volete perdervi i prossimi video ricordatevi di attivare le notifiche e non ve ne pentirete ultima cosa se come me amate l'hardware e non vi sto troppo antipatico iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video